E siamo a Real Madrid, a E-K, un'altra squadra greca che perde e qui subisce un autogol 5-0 addirittura, è un autogol che apre le marcature di Giorg Amlis al quinto minuto del primo tempo. Protagonista Butraghegno, che qui con il suo traversone mette in difficoltà il difensore avversario, il portiere recrimina, ma dopo soltanto sette minuti sarà lui a dover lamentare un infortunio sul lavoro, per così dire, si lascia sfuggire un pallone proprio scalciato da Butraghegno, determinando il 2-0. L'E-K aveva vinto l'incontro d'andata per 1-0. In questa partita abbiamo visto prima il bel gol di Mario Bin nella partita precedente del Feyenoord, vedremo un gol molto bello realizzato da Ugo Sanchez, il messicano che gioca col numero 9 nella squadra di Real Madrid, che ha affrontato questa partita, rivediamo intanto il gol di Butraghegno, con una formazione tutta ad attacco, una specie di tridente, se così si può dire, costituito da Butraghegno, da Ugo Sanchez e da Valdano, dall'argentino Valdano. Qui ancora Butraghegno che propone e la conclusione, da distanza ravvicinata con questa canonata, è di Michele, un altro giovane molto interessante del calcio spagnolo, ricorderemo protagonista della partita l'anno scorso contro l'Inter dalla formazione madridista. Ecco il traversone di Butraghegno, il gol di Michele, siamo al 3-0, che diventerà poi addirittura 4-0, qui intanto un contrattacco dell'AIC che non produce effetti, il risultato diventa 4-0 al 32esimo del primo tempo per opera di Valdano, l'argentino che citavo poco fa. Tanto Sanchez e Valdano qui non riescono a realizzare, vedete l'acrobazia di Sanchez che è dotato dal punto di vista atletico in maniera notevole, lo vedremo proprio sfruttare queste sue doti nell'azione della quinta rete, ma non anticipiamo i tempi, vediamo intanto che cosa fa Valdano per realizzare il suo quinto gol. Posizione dubbiosa, dice la nostra collega che commenta questa partita, chiarisce che anche dalla ripetizione non si riesce a capire bene se l'argentino è in posizione regolare o no. Sta di fatto che il gol viene convalidato e a questo punto potremmo anche dire un gol più, un gol meno non è molto grave, dato che il risultato finale poi sarà di 5-0 contro lo 0-1 dell'andata. Vedete che ha anche altre occasioni da formazione del Real Madrid, qui Sanchez si vede ribattere col corpo da un difensore, un tiro da distanza ravvicinata. Il quinto gol comunque molto bello, completa tutta la giornata, qui una rovesciata di Butraghegno che colpisce il palo, una silena come la chiamano gli spagnoli. Stiamo per vedere il gol di Sanchez, la spettacolare girata a fil di palo che consente a Sanchez di portare a 5 i gol della sua squadra. E' Gordiglio che propone l'azione, il suo cross ed ecco la bella girata di Sanchez che rivedremo adesso da altra angolazione, ancora un assaggio acrobatico di Hugo Sanchez. E' un gol con Capriola. Con Capriola successivo. Ecco, rivediamolo. Era il gol del 5-3. Ne sono jeden Museo gratuito.